31 Maggio Preghiera a visitazione della Beata Vergine Maria La visitazione della Beata Vergine Maria è una festività cristiana che celebra l'incontro tra la Vergine Maria e sua cugina Elisabetta, descritto nel Vangelo di Luca, 1, 39-56. Questo evento è significativo perché rappresenta il momento in cui Maria, incinta di Gesù, visita Elisabetta, incinta di Giovanni Battista. La festività è celebrata il 31 Maggio nella Chiesa Cattolica e il 2 Luglio in alcune altre tradizioni cristiane. Qui trovate una preghiera classica da recitare in questo particolare giorno dell'anno. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Tu, oh Maria, non tieni per te la grande notizia e il grande avvenimento della incarnazione di Dio, della realizzazione delle promesse. Tu lo porti e lo comunichi subito ad Elisabetta. Ti metti al servizio con umiltà e dedizione. Così ogni cristiano non può tenere per sé il dono della fede, è per natura un evangelizzatore, un portatore della novità dell'amore che si dona in un servizio disinteressato. Annuncio di Cristo e servizio all'uomo non vanno mai separati. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti.